Un saluto a tutti i lettori di HDblog, siamo oggi in compagnia dell'HTC Desire HD per mostrarvi uno dei launcher più interessanti usciti recentemente sull'Android Market. Si tratta dell'applicazione Go Launcher che ci permette di personalizzare in maniera molto interessante la nostra interfaccia. Conoscerete tutti sicuramente Launcher Pro, ADW Launcher e altri famosi launcher che tutti offrono caratteristiche importanti e che trovano in questo nuovo launcher, Go Launcher, un sunto di tutte le caratteristiche principali degli altri più alcune funzioni molto interessanti che andremo a scoprire. Ovviamente è un launcher personalizzabile quindi è possibile configurare varie home screen che potranno essere cambiate inserendo nuovi widget, applicazioni o altro. Andiamo ad esempio ad inserire un widget e avremo la nostra lista di opzioni. È possibile direttamente accedere alle preferenze, wallpaper, folder che sono appunto le cartelle di sistema, widget o scorciatoie. Se noi andiamo a inserire un widget, possiamo selezionare tutta la nostra lista di widget e inserire il nostro widget direttamente nella schermata principale. Le schermate principali sono impostabili in maniera molto interessante perché supportano sia il multitouch, quindi la possibilità di visualizzare tutte le schermate con un gesto pinch to zoom, sia di utilizzare il tasto home per visualizzare nuovamente le interfacce, oppure ad esempio se siamo in una pagina diversa dalla home è possibile tornare alla home e ripremendo avremo la visione di insieme di tutte le schermate. inoltre è possibile impostare delle gesture in modo che queste gesture, queste azioni, possono attivare questa funzione. Noi ad esempio abbiamo settato che strisciando il dito in alto avremo la possibilità di visualizzare tutte le nostre anteprime. Un'altra cosa importante è che queste gesture possono essere applicate anche per altre funzioni, quindi ad esempio noi possiamo selezionare la nostra barra di notifiche strisciando il dito dall'alto, ma è possibile anche farlo in qualsiasi altra parte dello schermo se lo impostiamo come vedete dal sistema. Tornando alle immagini delle home vedete che è possibile impostare diversi home, in questo caso ne abbiamo 5, questa è quella di default, basta premere sul tasto home ed è possibile poi impostare eventualmente un'altra home come default. Noi inseriamo questa e come vedete si illumina di verde la casina. È possibile aggiungere altre home, come sappiamo Android ha il limite di 7 home per la home principale. Con questo launcher possiamo aggiungerne veramente un numero esagerato perché come vedete adesso sono 8, 9, andiamo a pagina 2, 10, 11, 12 e continuiamo ad aggiungere schermate e come vedete continueranno ad aumentare le pagine fino ad arrivare a un massimo di circa 30 home. Non le abbiamo contate tutte ma più o meno sono una trentina perché sono 9 per 3 più 3 quindi sono 30 home esatte. Quindi un numero veramente impressionante di home disponibili che vengono visualizzate attraverso poi questo cursore quando sono tante e quindi ci potremo muovere all'interno dell'interfaccia molto facilmente. Come vedete noi stiamo scorrendo, possiamo aggiungere un widget in questa posizione per esempio e andando a fare un pinch to zoom andremo a vedere che in questa pagina abbiamo appunto il nostro widget mentre le altre erano vuote. La velocità del launcher è veramente molto molto elevata, come potete vedere tutte le schermate nonostante sia pieno si muovono velocemente. Torniamo all'home direttamente col tasto home o premendolo di nuovo alla visione di insieme. Ovviamente è possibile cancellare tutte le schermate direttamente con il menu X che troviamo direttamente in questa parte. Andiamo a chiudere alcune interfacce e quando chiudiamo una home con un widget un messaggio ci chiede la conferma perché verrà cancellato anche quel widget. Quindi parte home veramente fatta molto bene con la possibilità di aggiungere un numero veramente oserei dire infinito di schermate. Ovviamente è presente il supporto live wallpaper e molto importante la possibilità di ruotare la schermata in landscape. Proprio la funzione landscape è una funzione che abbiamo apprezzato molto soprattutto per quanto riguarda il supporto a eventuali schermi molto grandi quelli ad esempio di tablet e questo supporto è molto buono perché oltre a essere estremamente rapido come potete vedere ci permette di avere una migliore soluzione sui device che vengono utilizzati in landscape. Ovviamente anche in questo caso supporta tutte le funzionalità che avevamo visto in precedenza e tutte le home in questo caso saranno orizzontali ovviamente. Torniamo alla home principale e andiamo a vedere alcune altre funzioni sempre relative alla home quando ad esempio andiamo a cancellare un widget. Se noi premiamo su un widget è possibile cancellarlo appunto con questo menu pop up o zoomare. Zoomare vuol dire semplicemente è possibile ridimensionare il widget a nostro piacimento quindi lo accorciamo e aumentiamo lo spazio per esempio metterci un collegamento o un'applicazione mettiamoci un'applicazione ad esempio il reader pdf e qui troviamo la nostra applicazione. Premendo sull'applicazione avremo la possibilità di replace ovvero di sostituire questa applicazione con un'altra rinominare e quindi andare a rinominare l'applicazione e quindi andremo a scrivere ad esempio adobe e basta fine ok e come vedete adesso è scritto soltanto adobe oppure cancellarla o addirittura disinstallarla noi la cancelliamo dalla home senza disinstallarla e torniamo a settare in maniera standard il widget che avevamo modificato. Queste quindi le funzioni relative alla home e sono applicabili come vedete a tutte le icone e a tutte le cartelle che abbiamo all'interno del nostro home. Se entriamo nel menu troviamo una organizzazione molto interessante del menu principale. Come potete vedere abbiamo la visione ovviamente landscape e verticale. Vi mostriamo il tutto in orizzontale in quanto apprezziamo questo software molto per questa visione d'insieme. Come vedete abbiamo all quindi tutte le nostre applicazioni che possono essere visualizzate sia in orizzontale quindi con lo scorrimento orizzontale delle app sia con lo standard verticale che adesso va selezionato poi dalle preferenze. Quello interessante è che possiamo avere un tab recenti dove abbiamo appunto tutte le nostre applicazioni recenti o un tab running dove ci sono appunto le applicazioni che stanno in questo momento sono in esecuzione sul sistema. Quindi potremmo andare facilmente ad aprire un'applicazione già avviata o più semplicemente a chiuderla tramite il tasto meno. È possibile poi chiudere tutte le applicazioni tramite il close all application, diamo ok e abbiamo appunto chiuso tutte le applicazioni. Molto interessante è la possibilità di creare cartelle. Abbiamo ad esempio creato una cartella giochi che come vedete ci permette di appunto modificare sia il nome della cartella stessa, ecco qui, sia inserire nuove applicazioni all'interno della cartella. La visualizzazione è tipo pop up ed è sia in landscape che ovviamente in portrait. Molto interessante è che è possibile poi andare a sfogliare le applicazioni anche in landscape, scusate anche in orizzontale se abbiamo più applicazioni inserite. La creazione delle cartelle è esattamente quella che troviamo su iPhone, quindi prendiamo un'icona, la portiamo su un'altra e viene creata automaticamente la cartella. Diamo indietro per confermare e chiudiamo la cartella. A questo punto abbiamo il nostro folder che possiamo rinominare e inserire ad esempio il nome navigatori. A questo punto abbiamo la nostra cartella navigatori direttamente nel nostro home. Possiamo poi inserire ad esempio il navigatore Google, ci spostiamo di cartella, ecco abbiamo sbagliato a inserirlo e l'abbiamo appoggiato su un'altra egone e quindi abbiamo creato un'altra cartella. Basterà farlo uscire, riposizionarlo e inserirlo nella cartella che vogliamo. Una funzione che riteniamo molto molto interessante e estremamente comoda che ci permette appunto di creare cartelle anche di sole applicazioni o di portarle fuori e automaticamente la cartella viene eliminata direttamente dal menu. Quindi teniamo premuto, premiamo X e eliminiamo la cartella. Stesso discorso vale per le applicazioni, premendo X andremo a cancellare e disinstallare l'applicazione. Le cartelle possono essere anche spostate di posizione e quindi inserite ad esempio tutte in fila in alto nel menu. Giochi e navigatori che avevamo creato prima. Oltre a questo troviamo tutte le preferenze direttamente all'interno della schermata home, eccole qui, dove è possibile selezionare le voci display, cambiare lo sfondo e tutte quelle applicazioni e scorciatoie che è possibile inserire all'interno del launcher. Quindi andare a impostare la dock, quindi le icone sulla dock, inserire ad esempio gli allarmi e i pop up che indicano il numero di email non lette piuttosto che messaggi e chiamate, andare nei settaggi avanzati o ancora andare a settare la rotazione del display e tutta una serie di opzioni come le gesture e altre opzioni. La barra delle applicazioni può essere settata in modo da contenere più applicazioni. Quindi se ad esempio andiamo in dock e settiamo tre, in questo caso avremo tre schermate per aggiungere applicazioni come avviene su altri launcher. Un launcher gratuito che consigliamo sicuramente di installare, estremamente rapido, molto funzionale e che ci permette di organizzare il nostro menu delle applicazioni in modo estremamente semplice con cartelle molto ben organizzate e estremamente comodo tramite i tasti di ricerca recenti e programmi aperti. Un saluto a tutti i lettori di HDblog da iNicolog.